Chiamo subito, puoi venire a questo punto, Cristina Pozzi, è CEO e co-founder Impact School, ha scritto un libro che è su Amazon, l'ho trovato subito, quindi si trova facilmente, che si chiama Benvenuti nel 2050 e questo 2050 è un po' la data del futuro, quindi alla domanda quanto manca al futuro la risposta è 31 anni, no? 30 anni, una cosa del genere. Va bene, ci parlerà di quanto manca e cosa succederà nel 2050, visto che non è così importante. Ti lascio il microfono. Grazie. A quanto pare ci andremo in pochi intimi nel 2050, però ci proviamo. Chiedo alla regia se mi manda il video con cui volevo iniziare. C'era anche una musichetta ma possiamo raccontarcela. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Diciamo che quindi la mia risposta, quanto lontano è il 2050, in realtà è molto vicino. Questa era una raccolta di quelli che noi in Impact School chiamiamo segnali dal futuro, segnali deboli che si possono osservare guardandosi attorno, vedendo cosa succede nel presente, proprio perché il futuro di fatto non è una di quelle cose che cerchiamo di guardare in una palla di cristallo, immaginando chissà che cosa con pura fantasia, ma in realtà è un esercizio che si fa proprio a partire di fatto dall'analisi e dall'analisi e dall'osservazione del presente. E quello che sta succedendo oggi è che abbiamo visto in tantissimi aspetti le cose vanno veloci, ci sono cambiamenti dirompenti, scusate sta ripartendo il video, cambiamenti dirompenti e che riguardano tutte le aree della società e questo fa sì che ci sia una grande confusione, cioè sentiamo a tutti i livelli, a tutte le età e in tutto il mondo una difficoltà spesso a comprendere il presente, a dare un senso a tutta una serie di puntini, di cose alla complessità che rappresenta questo presente, figuriamoci se poi, visto che i semi del futuro stanno nel presente, proviamo a dare un senso al futuro. Quindi quello che accade è che spesso c'è questa difficoltà a comprendere cosa stia accadendo. Ci sono diverse teorie su come si può parlare di futuro, sicuramente una delle parole principali quando si parla di futuro è cambiamento, è la prima che ci viene in mente e quello che ci sentiamo raccontare, che sappiamo e che vediamo anche se ci guardiamo attorno è che i cambiamenti oggi sono, ho già detto prima, dirompenti, sono anche costanti. Ormai il cambiamento è una delle poche certezze in qualche modo che abbiamo quando pensiamo al futuro e quando guardiamo attorno a noi nel presente. Ma soprattutto questi cambiamenti sono anche molto veloci. È questo anche che fa sì che per noi sia difficile stare al passo. Quindi quando prima dicevo facciamo fatica a dare un senso al presente, a stare dietro a cosa sta accadendo, spesso è dovuto anche al fatto che non facciamo tempo ad abituarci a capire una nuova innovazione, una nuova scoperta scientifica o il lancio di una nuova tecnologia che già in realtà probabilmente stiamo imparando qualcosa che è quasi vecchio. E questo si ripercuote per esempio poi anche nel mondo dell'educazione e del lavoro. Spesso ci sentiamo raccontare, ci sentiamo dire che i nostri ragazzi studiano magari all'università a cinque anni delle competenze che quando poi saranno usciti dall'università sono già quasi diventate vecchie. E questo è esattamente l'effetto di questi cambiamenti. Ma cosa accade? Allora qualcuno parla di singolarità tecnologica, qualcosa che arriverà a breve e che mi chiedo a questo punto, visto che siamo anche in pochi, magari abbiamo modo di interagire, se qualcuno di voi ha mai sentito questo termine e sa più o meno cosa significhi. Non vi interrogo, non vi chiedo di venirlo a dire qua, non vi preoccupate. Però tanto per capire se è un termine che avete già sentito prima di oggi. Qualcuno sì? Altre facce un po'... Ok, per cui lo spieghiamo. Singolarità tecnologica è un termine che spesso si usa proprio per raccontare cosa accadrà nel futuro. Qui quindi cerco di andare alla risposta del perché il 2050 è una data importante. con riguardo all'avanzamento delle nuove tecnologie, in particolare dell'intelligenza artificiale. Secondo alcuni esperti, questo momento di singolarità tecnologica dovrebbe accadere tra il 2039 e il 2045. Cosa succede in una singolarità tecnologica? Se qualcuno di voi ha studiato fisica, forse singolarità come parola l'avrà sentita. In fisica, un esempio di singolarità che molti di noi conoscono è il Big Bang, per esempio. Cos'è? Un momento, un istante, un passaggio in cui avviene un cambiamento così pazzesco, così dirompente, che se qualcuno si dovesse trovare a passare dall'istante subito prima a quello subito dopo, si ritroverebbe in una realtà che ha cambiato completamente forma, in cui non valgono più le regole che era solito riconoscere nella realtà precedente. Quindi diciamo che quello che ci interessa in questo caso di singolarità è la sensazione di spaesamento che dovremmo trovarci ad avere nel momento in cui avviene un momento di singolarità. Tecnologica è una singolarità dovuta agli avanzamenti della tecnologia. E cosa succede? Che a un certo punto Werner Winge, che era un ricercatore ed è anche un pluripremiato autore di fantascienza, crea questo paper, questo documento scientifico, dove spiega il suo concetto e inaugura questo termine. E lui ci dice, è un ragionamento molto logico, se noi siamo in grado di creare un'intelligenza artificiale che sia più intelligente di un essere umano, in prospettiva futura, è ovvio che questa intelligenza sarà a sua volta in grado di creare un'intelligenza ancora più intelligente di lei. Faccio questo passaggio più di una volta, mi ritrovo in un mondo che io, essere umano, non sono più in grado di comprendere. E quindi dice, vedete un pesce rosso, perché in alcune interviste per spiegare il concetto diceva ci ritroveremo in una realtà che per noi ha lo stesso senso che la civiltà umana ha per un pesce rosso. Ora, perché vi dico questo, non per spaventarvi, niente paura, però questo è un modo che tanti usano per raccontarci cosa succederà nel futuro. E ci dicono quindi che il 2050 sarà già dopo questo passaggio. Ora, se facciamo un po' di ordine, in realtà l'intelligenza artificiale è già oggi, in modo verticale, su delle competenze molto specifiche, potenzialmente è molto più brava di noi a fare tutta una serie di cose. Però da qui a essere paragonabile a un'intelligenza umana che si adatta, che comprende, che ha buon senso, che sviluppa una coscienza, siamo molto molto lontani. Quindi da un certo punto di vista, niente paura. Io non credo che sarà esattamente questo il passaggio che vedremo nel 2050. Però quello che posso dire è che sicuramente ci sono tanti cambiamenti e che quello che, credo che non stiano andando avanti, scusate, le slide, chiedo se è possibile. Ritento. Scusatemi. Ok, perfetto, grazie. Questa è intanto andata, poi vediamo per le prossime. Quello che accade è che sicuramente ci sono tantissimi cambiamenti molto veloci. Questo, per esempio, è la tipica frase che troviamo online o che troviamo sui social. Spesso diventano virali queste frasi che ci dicono che abbiamo creato più dati negli ultimi due anni che in tutta la storia dell'umanità o cose del genere. Questo per esprimere cosa? La velocità con cui avvengono i cambiamenti, con cui la nostra civiltà sta andando verso qualcosa di diverso, che si basa su dati, che si basa su nuove tecnologie per fare tutta una serie di cose. E fin qua ci siamo. Proviamo a vedere cosa dicevano intorno al 1600 quando c'è stata la rivoluzione scientifica, quella che noi oggi, guardandoci indietro, chiamiamo rivoluzione scientifica, ma in particolare quando è stata inventata la stampa. Ora, è chiaro che i termini sono diversi, non si parla di dati, non si parla di intelligenza artificiale. Però io, quando ho letto questa frase per la prima volta, ho ritrovato esattamente tutto lo stesso sapore che trovo in quelle frasi in cui si dice in due anni abbiamo creato più dati, più informazioni, più tecnologia, più innovazione che in tutta la storia dell'umanità. è la stessa cosa. La sensazione di non comprendere cosa stia accadendo, la sensazione di essere spaisati, lato anche vita di tutti i giorni, probabilmente in proporzione è la stessa. Ora qui qualcuno di solito dice, i sostenitori soprattutto della singolarità, ma oggi è più veloce. Quindi non è paragonabile a quello che è successo con la stampa. Sì, oggi ovviamente è più veloce, però proviamo a vedere questa immagine. Vi chiedo, cosa vedete in questa immagine? Un gabbiano? Qualcuno vede un coniglio? Attenzione. È un coniglio o un gabbiano? Chi vedeva il gabbiano lo vede il coniglio se prova a guardare bene? Sì, perfetto. Perché vi faccio vedere questa immagine dopo che vi ho parlato di dati, di progresso e di cambiamenti tecnologici. Perché in realtà un modo di guardare al concetto di progresso o comunque a quello che è successo nella storia dell'umanità è anche un modo di guardare a cambiamenti di punto di vista, cambiamento di mentalità. Tanti sostengono che in realtà la cosiddetta rivoluzione scientifica, quella che è avvenuta insieme a quella rivoluzione della stampa che abbiamo visto prima, in realtà non sia stata una vera rivoluzione tecnologica, ma di fatto sia stata il risultato tecnologico ed innovazione di un cambiamento totale dell'essere umano di guardare alla realtà. Quest'immagine cosa prova? Prova che la nostra percezione continua a lavorare e cambiare in modo di vedere le cose pur di fronte alla stessa immagine, alla stessa realtà. Quindi di fronte allo stesso mondo l'essere umano fa dei cambiamenti di modo di vedere le cose. Noi a posteriori lo vediamo e diciamo c'è un progresso, c'è un'innovazione, c'è una velocità, stiamo andando verso qualcosa di più elevato. E questo io preferisco sempre mostrarlo perché intanto mette un po', mina un po' le fondamenta del concetto di progresso come lo immaginiamo noi, ci fa capire come siamo noi poi di fatto a definire come le cose si sono evolute nel passato semplicemente guardandoci indietro e tendendo a dare un tempo lineare a quello che accade. Ma soprattutto se noi vogliamo provare a guardare al futuro e provare a capire cosa succederà nel futuro in un periodo storico come quello in cui stiamo vivendo oggi, in realtà dobbiamo partire da qui perché quello che stiamo vivendo oggi in realtà è un cambiamento come questo. quando si sente dire siamo di fronte a un cambiamento di paradigma intendiamo proprio questo, stiamo cambiando completamente il modo di vedere tutta una serie di cose. Anche l'essere umano è diventato qualcosa da analizzare in termini di dati, di informazioni e quindi sì, c'è un cambiamento tecnologico in corso, ma è un cambiamento che è dettato da un nostro cambio di punto di vista che sta avvenendo, avverrà nel tempo, non sarà una cosa istantanea come è avvenuto anche in altre situazioni del passato. Non c'è nulla da temere, sopravviveremo, non è la singolarità tecnologica di cui parlavamo prima, sicuramente però coloro che vivranno dopo il 2050 guardando alla civiltà che abbiamo vissuto noi, che conosciamo noi, magari la guarderanno come noi guardiamo quella del 1600, del 1700 o addirittura del 1400. e quindi vedremo una mentalità completamente diversa e la giudichiamo di conseguenza così come saremo giudicati noi da chi arriva dopo. Quindi sicuramente sarà un mondo molto diverso. Come si fa a esplorare quindi il futuro nel momento in cui avvengono queste trasformazioni? Prima parlavamo di cambiamenti, non vi voglio annoiare ma solo per dare, ups, scusate, solo per darvi un'idea di cosa stiamo parlando, del fatto che guardandoci indietro chi studia il cambiamento ci dice quando ci sono dei momenti di passaggio che poi noi andiamo a definire come passaggio di epoca che sono quei momenti in cui noi cambiamo quel paradigma, cambiamo il modo di vedere le cose e di conseguenza cambia il modo in cui tutta la nostra società è costruita, in quei momenti avvengono cambiamenti trasformativi che sono molto diversi da quelli che siamo abituati a vedere in un mondo che invece sta andando in modo lineare. Quindi quando siamo all'interno di un periodo storico che poi noi definiamo un'epoca continua i cambiamenti invece sono incrementali e di conseguenza sono facili da prevedere perché se io posso osservare che in passato qualcosa è aumentato del 10% mediamente ogni anno è facile immaginare e proiettare quella stessa percentuale nel futuro ma quando le cose cambiano in modo trasformativo significa che da un giorno all'altro inventiamo il web e cambia completamente il modo di comunicare con le persone. Quello è un cambiamento trasformativo che prima di inventare il web era difficile da prevedere e quindi voi direte quindi adesso siamo qui abbiamo di fronte un momento di cambiamento pazzesco cambia il paradigma noi non abbiamo la mentalità per cambiare questo paradigma quindi cosa facciamo? In realtà abbiamo degli strumenti quindi in realtà sono qui a darvi delle buone notizie quindi non vi preoccupate da questo punto di vista gli strumenti sono qua nel presente quindi una volta che abbiamo capito qual è il tipo di cambiamento che abbiamo di fronte dobbiamo fornirci degli strumenti appunto giusti scusate la ripetizione non dobbiamo più ragionare in modo incrementale e dire 10% sarà il 10% anche l'anno prossimo non dobbiamo pensare a breve termine dobbiamo abituarci a ragionare a lungo termine ad avere una visione che vada oltre ecco perché andiamo al 2050 e andare al 2050 ci è utile non tanto perché i cambiamenti sono così veloci che il 2050 è dietro l'angolo ma ci è utile perché ci dà una bussola per agire oggi di conseguenza quello che pensiamo che avverrà domani così dovremmo in teoria prendere decisioni strategiche con una visione a lungo termine oggi siamo nel presente ci sono una serie di certezze pochissime ma quelle poche che ci sono le possiamo individuare dopodiché funziona esattamente come se dobbiamo andare da qualche parte prendiamo una mappa magari usiamo un'app sul cellulare e diciamo ok io voglio esplorare qual è il futuro della mia società quindi come destinazione metto il futuro del settore dove io lavoro bene con quali strade posso andare verso quel futuro quali sono i possibili futuri che ho di fronte in realtà tantissimi noi siamo abituati che l'app ci risponde subito e ci dice guarda questa è la strada più veloce vai per di qua facciamo esattamente la stessa cosa anche quando pensiamo al futuro alla strategia al nostro futuro all'azienda alla società società intesa come civiltà ed è questo il problema perché in realtà le strade per andare verso quel futuro e quindi per esplorare cosa potrebbe succedere sono molte di più sono tantissimi futuri possibili cioè quello in cui io mi fermo tornando all'ipotesi della mappa per arrivare alla mia destinazione voglio fermarmi in tutti i ristoranti più buoni per fare una degustazione di cibi locali oppure voglio avere la vista migliore oppure soffro l'auto e voglio la strada più dritta senza curve oppure 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 perché ognuno di noi ha un diverso futuro che preferisce rispetto a quelli degli altri e qui arriva un altro punto importante quando pensiamo al futuro non possiamo farlo da soli perché se io mi metto a fare questa analisi da sola troverò la strada che io preferisco per andare verso il futuro che ho messo come mia destinazione però se comincio a chiedere ad ognuno di voi qual è la strada che preferirebbe fare probabilmente ognuno ha un punto di vista differente quando si tratta di scelte che influenzano l'intera società è evidente che purtroppo si crea un futuro distopico se è solo qualcuno a scegliere quel futuro e in qualche modo a imporlo a tutti gli altri quindi l'esercizio di pensare a un futuro soprattutto se è un futuro collettivo dovrebbe essere fatto insieme e anche qua poi vi faccio qualche esempio di come si può fare qua faccio solo un piccolo esempio velocissimo per farvi capire come ognuno di noi potenzialmente può influenzare quello che succederà nel futuro facendo questo tipo di ragionamento in modo anche creativo cosa serve per fare un esercizio di futuro immaginiamo che io abbia comprato uno speaker wireless Amazon Alexa Google Home uno di questi altri oggetti che oggi vanno molto di moda sono arrivati anche in Italia immaginiamo che io abbia un bambino piccolo a casa che si diverte a giocare con questo strumento giustamente impara a rivolgersi a questo strumento per ottenere quello che vuole cosa fa per ottenere quello che vuole come si rivolge all'assistente virtuale se qualcuno di voi ce l'ha ma se lo avete anche solo sul vostro smartphone saprete che di solito la frase è tipo Alexa dimmi che tempo fa oggi oppure Siri metti su la mia canzone preferita cosa hanno in comune queste frasi sono tutte frasi all'imperativo al di là del fatto che spesso sono frasi rivolte a un nome di genere femminile con un ordine ma questo è un discorso di un altro tipo che si potrebbe affrontare potremmo stare qua ore però già solo il fatto che io do un ordine e se do un ordine fatto bene così bello secco ricevo quello che voglio e i bambini sono furbi imparano in frettissima cosa è successo negli Stati Uniti i bambini andavano dai genitori mamma dammi l'acqua papà allacciami le scarpe e ordini come se fosse il modo migliore per parlare con chiunque però cosa è successo ci si è chiesti è questo il futuro che vogliamo che accada vogliamo che i nostri bambini imparino a interagire così con gli altri esseri umani quindi si vede qualcosa che sta succedendo nel presente si prova a ragionare sulle possibili conseguenze in realtà ce ne sono tantissime altre che potrebbero arrivare dal fatto di crescere insieme a un assistente vocale io ne ho messa anche qualcuna esagerando un po' andando un po' oltre potremmo addirittura arrivare in un mondo in cui non sarà più necessario leggere e scrivere perché magari tutti i comandi e tutte le interazioni le abbiamo vocalmente potrebbe essere un futuro possibile poi cosa succede però appunto mi chiedo è il futuro che voglio e qui il concetto di futuro preferibile ricordate le strade prima io preferisco la strada più dritta perché soffro la nausea ma magari qualcuno di voi si vuole fermare a mangiare in ogni localino di cibo particolare benissimo quindi futuro preferibile discussione collettiva si capisce qual è il futuro migliore che vogliamo costruire insieme e ci andiamo ci andiamo cosa succede negli Stati Uniti per ora intanto hanno messo sia Google che Amazon un plugin che si può installare se l'assistente sta parlando con un bambino gli dice devi chiedermi per favore la parolina magica come diciamo noi in italiano e già questo cambia le cose quindi il futuro si può influenzare basta osservare però con attenzione intercettare le cose finché sono ancora segnali prima che diventino qualcosa che ha già cambiato l'andamento del presente e della società e questo si può fare anche a livello collettivo o si può decidere di non fare come in questo caso Exo ma tantissimi altri la situazione climatica la conoscevamo molto bene addirittura l'abbiamo prevista così bene che se non erro ad aprile maggio le previsioni che la Exo aveva fatto 50 anni fa sull'emissione di CO2 erano giuste alla virgola per quel mese nel 2019 però le cose non sono cambiate quindi possiamo fare l'analisi vedere tutto quanto e poi scegliere che il futuro preferibile è continuare come stiamo continuando però possiamo anche fare le cose in positivo quindi sempre per ricordarci che non non è perduta ogni speranza questo è un bellissimo esercizio di creazione di futuro collettiva per cui in tante persone ci si mette d'accordo su degli obiettivi di futuro preferibile e insieme si prova a raggiungerli come spezzettandoli in tanti piccoli sotto obiettivi e quindi trasformando in azione questo è il punto importantissimo quello che mancava all'esempio di prima era la trasformazione in azione di quello che si era analizzato in questo caso sto trasformandoli in azione e è chiaro magari non raggiungerò esattamente tutti gli obiettivi entro l'anno in cui me li sono posti però si stanno facendo grandissimi passi avanti grazie a questo esercizio di futuro collettivo e questo nonostante tutte le trasformazioni i cambi di paradigma la velocità con cui va la tecnologia basta mettersi un obiettivo importante e ogni volta che si prende una decisione prenderla di conseguenza a quell'obiettivo questo è il punto di qualunque strategia quindi di fatto il futuro per noi è uno strumento per prendere decisioni e oggi appunto questi cambiamenti e queste queste innovazioni che arrivano vanno a cambiare completamente tutti gli aspetti della nostra società quindi torno al discorso iniziale cambia il modo in cui interagiamo come cittadini per esempio con i nostri governi e quindi mettiamo in dubbio e mettiamo in crisi il sistema come funziona oggi che comunque sembra non avere gli anticorpi per le nuove tecnologie che abbiamo inventato negli ultimi cent'anni così come deve cambiare il modello educativo abbiamo detto prima certe cose vanno troppo veloci la competenza tecnica scade bene puntiamo su qualcos'altro puntiamo su delle competenze che ci permettano di continuare a imparare le competenze tecniche con la capacità di essere flessibili per esempio ma cambia anche il modello economico che oggi è palesemente in crisi perché finché non è sostenibile sappiamo che se continuiamo così le cose non stanno andando molto bene dobbiamo imparare dai nostri errori ad oggi il modello che stiamo usando a livello di società e di modello di business delle nostre aziende purtroppo non è sostenibile a livello di ecosistema del nostro pianeta e così via quindi ci serve un bel cambio di paradigma adesso per arrivare al 2050 sani e salvi quindi ripassando cosa ci serve come strumenti capacità di osservare il presente tanto e con spirito critico di cogliere di cogliere quei segnali deboli di capire se qualcuno ha detto una frase che potrebbe significare che c'è un cambiamento in corso come quel cambiamento che abbiamo visto prima dell'assistente virtuale che può cambiare il modo in cui anche i nostri bambini interagiscono con gli adulti ad esempio poi vado a esplorare le diverse possibilità che nascono da quel segnale rifletto dal punto di vista critico e questa è la parte più importante quindi anche c'è un tema etico nel momento in cui ho di fronte tante possibilità nel momento in cui devo fare una scelta in automatico si parla di etica perché devo mettermi da una parte o dall'altra devo definire cosa per me e per il contesto in cui sono per l'anno in cui sto vivendo è giusto sbagliato pensando in prospettiva però poi lo devo fare insieme ad altri dobbiamo costruirlo in modo anche creativo e con grande immaginazione e per questo anche in Pax School l'organizzazione che guido che è una no profit gira nelle scuole e nelle università proprio per cercare di stimolare queste competenze capacità di osservazione capacità critica capacità di riflessione etica immaginazione e creatività proprio per imparare a rimettere in dubbio il sistema a rimettere in dubbio sempre qualunque tipo di paradigma in modo da poterlo ricostruire nel modo migliore per in Pax School quindi questo futuro questo 2050 io vi ho dato degli spunti ma in realtà è un 2050 completamente aperto noi diciamo che è open source nel senso che si è aperto a tutti alla partecipazione di tutti ma soprattutto è anche inclusivo quindi si costruisce insieme e da tutti può essere deve essere per tutti scusatemi quindi tutti lo costruiscono mi rispiego perché l'ho detto malissimo e rischio di non spiegarmi bene scusatemi quindi costruito da tutti come un software open source ma anche accessibile a tutti come un software open source spesso è accessibile gratuitamente questo significa non lasciare indietro nessuno e questo è importantissimo perché oggi gli strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione rischiano in questo momento di andare a seguire il futuro preferibile solo di pochi creano polarizzazione e se non ci ricordiamo di cercare di creare dei sistemi che siano sostenibili e inclusivi nei confronti di tutti rischiamo di andare verso un futuro che è preferibile solo per pochissimi per fortuna con Impact School abbiamo anche tanti volontari ambassador che ci aiutano quindi sono anche molto fiera di dire che ad oggi abbiamo già toccato più di 17.000 giovani in tutta Italia e abbiamo più di 60 volontari che ci supportano in tutta l'attività quindi io lo ricordo sempre perché se chiunque fosse interessato a questo tipo di argomenti a portarli nella propria comunità nella propria scuola nell'università o dovunque sia contattateci perché ci siamo siamo a disposizione abbiamo tantissime persone anche sul territorio grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti